no 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 tra qua arriva e lo viene con il picco e cominciamo a prendermi la la pericola l'unica cosa è che io ho io ho questa foto fatto questo come sono entrati e sono usciti dalle forme hanno fatto proprio il buco nel pavimento sono usciti da un buco nel pavimento sono entrati dalle fogne e sono usciti dalle fogne come hanno fatto a fare questo buco con che materiale come l'hanno fatto scusatemi io non lo so io li mi sono trovati davanti e basta direttore scusate quanti dipendenti c'erano all'interno eravamo in tre siamo rimasti dentro in due perché uno dei tre è riuscito a scappare sentendo le mie gride ma era grave c'è stata una piccola colluttazione ma non hanno infierito contro di me ecco ecco qua ma come ti hanno detto è stato Grazie.